In 30 anni evaporati 100 miliardi di euro di investimenti nei crack bancari ed industriali. Il calcolo è stato fatto da Adusbef e Feder Consumatori, in occasione della relazione annuale del governatore di Banca Italia Ignazio Visco. In tutto, dal 1985 a oggi, secondo le associazioni, 1,6 milioni di risparmiatori hanno perso i loro soldi. Il solo doppio dissesto della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca è costato 18,9 miliardi di euro. E' il risparmio ucciso dalle banche, con la complicità del controllore, cioè Banca Italia e Consob. Penso che questa Banca Italia dovrebbe essere sciolta immediatamente, perché è nociva per i risparmiatori e anche per il governo. Non è più come quello di una volta. Adesso si vede che si sono messi in sintonia con Renzi, il governo Renzi. Un venditore ambulante di pentole bucate è la stessa cosa fa Visco. Penso che dovrebbe andare a casa, oppure, per i guai che ha combinato, essere messo sotto processo. Fondo Atlante è stata un'invenzione di guzzetti, guzzetti e fondazioni bancarie, per salvare la Banca Italia. Cioè, questi governatori che si sono succeduti hanno sempre detto che il sistema bancario italiano era solido. Oggi Visco ha avuto il pudore di non dire più che era solido, perché questo sistema bancario è crollato sotto crack negli ultimi trent'anni di cento miliardi di euro, crack finanziario e industriale. Gli ultimi sono quelle delle quattro banche in risoluzione, Etruria, della signora Boschi, papà, Banca Marche e Bianconi, Carichietti e Cari Ferrara. E in più lo spiccia faccende di Visco Giovanni Zonin, che Banca Popolare di Vicenza, noi avevamo denunciato dal 2008 i metodi estorsivi per diventare azionisti, le azioni gonfiate, da 62,50 euro azzerate. Insieme a Veneto Banca un buco di 18,9 miliardi di euro. Ma di che cosa parla questo governatore? Questo dovrebbe essere assicurato alla giustizia insieme all'intero direttorio. Abbiamo detto 100 miliardi, Monte dei Paschi, Carige, Veneto Banca, Popolare di Vicenza, Bipop Carire. E l'abbiamo elencata, la lunga catena di crack e scandali bancari. Ma noi stamattina eravamo sotto la Banca d'Italia, uomini sandwich. E noi abbiamo in questo cartello che indossavo io, dicevamo che 20 miliardi di euro solo negli ultimi tempi di risparmio espropriato. E in genere ogni 31 maggio la relazione al governatore si chiama messa cantata. Allora abbiamo detto al posto della messa cantata, Visco si alleni ad un canto gregoriano, quello del Regina Celi. Non è possibile che questi signori continuino a dare lezioni di etica, di moralità. Sono 7 mila. Non hanno mai prevenuto un crack. Che cosa fanno? Questa Banca d'Italia è dannosa per il risparmio e per gli risparmiatori. E un paese normale dovrebbe porsi il problema se è ancora funzionale all'Italia oppure se è funzionale solo agli interessi dei banchieri. Ma un governo pataccaro che prima dà 80 euro al mese e poi a un milione e quattrocentomila glieli richiede in un'unica soluzione ai poveracci, a quelli sotto 7.500 euro oppure quelli sopra i 24.000 euro. Ma che cosa ci si può aspettare da un governo di Matteo Donascimento? Perché questo Renzi, più di Vanna Marchi e di Mago Donascimento che vendevano le pentole in tv, questo vende pentole ma con l'aggravante che sono bucate. Quindi spero che il referendum di ottobre mandi a casa Renzi, Boschi e Verdini. Lo zar, la zarina, il lazarone. Non è una mia invenzione ma è di crozza. Vegas, ci mettiamo una pietra sopra perché Vegas si è autoassolto Visco su questa scia si è autoassolto oggi e Vegas che aveva abrogato gli scenari probabilistici ossia quella paginetta riassuntiva di un prospetto di 150 pagine che ti dice quante possibilità di guadagno o di perdita un investimento e insomma pure questo Vegas che si autoassolve aveva abrogato gli scenari aveva inventato i bond da banco parafrasando i farmaci da bando da banco sta ancora diciamo alla Consob in un paese normale dovrebbe anche lui essere a Regina Celi che è stato corretto che si rinccano a chi si rinccano e che si rinccano